Ciao a tutti! I 5 tipi di donna dai quali stare lontani La bella macretina è un luogo comune, lo so, e come tutti i luoghi comuni, si basa sulla realtà. Spesso le belle ragazze non si distinguono, certo, per un particolare acume. Sembra anzi che siano più interessate a dedicarsi esclusivamente al proprio corpo e al proprio aspetto, piuttosto che coltivare la materia grigia, di cui anche loro sicuramente saranno dotate. È proprio sicuro, eh! Questo non vuol dire ovviamente però che tutte le belle ragazze siano cretine. Anzi, la leggenda narra che esistano ragazze sia belle che intelligenti. Leggenda che, per quanto mi riguarda, deve ancora trovare fondamento. Comunque non è di loro che devo parlare, ma per l'appunto della categoria belle ma cretine. Una categoria molto diffusa a livello globale. Ma andiamo a vedere un esempio. Amore, che cosa ne dici se oggi andassimo alla Feltrinelli? Devo fare un acquisto. Va bene, ma prima devo finire di truccarmi. Oh, che bello! Guarda quante cose che ho preso! Delle simpatiche tazze con degli animaletti. La borsetta di Allokitty. Pennarelli ed evidenziatori ecologici e cosolidali biodegradabili. E l'ultimo numero di Top Girl. E tu, che fai tanto lo spiritoso, che cosa hai preso? Beh, io ho preso questo libro. Come difendersi da loro? L'unica cosa che si può fare è cercare di evitarle. Se per voi, però, non ha alcuna importanza che la vostra compagna dimostri di avere qualcosa anche qua, oltre che qua, e vi accontentate di una che vi faccia sentire invidiati perché, mentre siete in giro con lei, tutti si girano a guardarla, andate pure tranquilli. Però attenzione! Se una ragazza è un po' stupidotta, non significa che sia più facile da gestire rispetto alle altre. Occhio! Il maschiaccio. Non è detto che una donna maschiaccio debba per forza essere lesbica. Quindi i più ingenui di voi potrebbero comunque cadere nella trappola e trovarsi invischiati in una relazione con una donna maschiaccio. Ma come si riconosce? Come dice il nome stesso, la donna maschiaccio di femminile probabilmente avrà solo il nome. Preferisce infatti avere i capelli corti, non si trucca, non si depila, tranne forse che nelle notti di luna piena. Non sa che cosa sia una gonna, e infatti mette solo pantaloni della tuta, accompagnati rigorosamente con scarpe basse, con preferenza per quelle da ginnastica che usano anche gli poppettari e poi dopo, quando le toglie, si diffonde in casa vostra una puzza bestiale come quella di un capodoglio spiaggiato in decomposizione. Poi quando apre la bocca non ne parliamo proprio. La tonalità della voce è di un'ottava sotto rispetto a quella di Glenn Benton, il cantante dei Dayside. Ed è sboccata peggio di uno scaricatore di porto. Cazzo no? Perché oggi ho beccato in giro quello stronzo del professore di aritmetica, volevo spaccargli la faccia, perché mi ha dato un voto troppo basso nel compito in classe, mi ha dato solo sei, cazzo, quel figlio di puttana. Se non becco la guida della sua macchina gli spacco tutto, porco di... Probabilmente poi è anche convinta che quando siete fuori a cena, sfidare i vostri amici in gare di rutti e scoregge sia una prova di femminilità e simpatia, e soprattutto che serva per sedurvi. Come difendersi da loro? Scappare a gambe levate non appena vi rivolgono la parola. La gelosa cronica. Anche questa categoria è diffusissima, quasi impossibile non averne a che fare, ed è pericolosa come la peste, se non di più. Si tratta di donne molto insicure, ma anche molto presuntuose, e guai a voi se cercate di riportarle alla dura realtà. Per questo tipo di donna è inconcepibile anche solo il pensiero che voi possiate aver avuto una precedente vita amorosa. Abbiate avuto delle ex, abbiate anche solo rivolto la parola a un esponente di sesso femminile, anche se era solo per chiedere delle informazioni stradali. Se vi mettete con una ragazza del genere, sappiate che diventerete gobbi, perché dovrete passare il resto della vostra vita con lei camminando a testa bassa, guardandovi i piedi, per evitare di incrociare lo sguardo con un'altra ragazza che magari sta passando sull'altro marciapiede. Come difendersi da loro? Battete la testa più volte contro il muro, oppure prendetevela a martellate, nella speranza che questo vi faccia perdere la memoria, scongiurando così il rischio di raccontargli per sbaglio qualche episodio della vostra vita precedente in cui non c'era lei ma un'altra. Altrimenti poi la testa a martellate ve la prenderà lei per tutta la vita. L'animalista All'inizio questa vi potrà fregare, sarà molto gentile e disponibile con voi, vista l'abitudine di passare la stragrande maggioranza del suo tempo ad accudire qualsiasi creaturina vivente che abbia avuto la sventura di capitagli fra le zampe, eh, fra le mani. E voi non farete eccezione, rappresentando per lei la classica irresistibile novità. Però non passerà molto prima che lei si accorga che voi siete sì un animale, ma grande e grosso e soprattutto indipendente. Quindi qualsiasi tipo di attenzione nei vostri confronti passerà immediatamente in secondo piano rispetto a quelle rivolte allo zoo che queste esemplari di psicolabili allevano in casa propria. Notoriamente questo tipo di donna è meno intelligente degli animali di cui si occupa, di solito gatti. E quindi, essendo lei il membro più debole del branco, ne viene immancabilmente schiavizzata. Le case di questi tipi di donna sembrano sopravvissute per miracolo a una devastazione nucleare. E pulsano come una stalla sotto il sole di agosto. Disordino ovunque, sporcizia, divani e poltrone fatti a brandelli, piscio di animale in ogni angolo della casa e soprattutto avanzi di croccantini per gatti sparsi ovunque. Tanto che se deciderete di muovervi in casa loro, ad ogni passo che farete, c'è il rischio di scivolare su un croccantino viscas e spezzarvi l'osso del collo. Come difendersi da loro? Fidanzatevi col gatto, che sicuramente è meglio. La ragazza perfetta La ragazza perfetta è bellissima. È sexy. Le piace farsi bella per voi e continuerà a farlo per anni. Anche quando le altre iniziano a imbigodinarsi e a venire a casa vostra spettinate, struccate e pretendendo che voi le trombiate con la stessa enfasi delle prime settimane, anche se in realtà sono passati 3-4 anni. La ragazza perfetta è anche intelligente. Riesce a farci un discorso che vada oltre a qual è il colore dello smalto preferito o che cos'è successo nella 2 milionesima puntata della telenovela preferita. La ragazza perfetta è anche simpatica e si trova a suo agio in qualsiasi situazione, anche fra i vostri amici ed ogni volta che ve la portate dietro vi darà modo di esserne orgogliosi e farà sì che i vostri amici diventino neri di invidia. La ragazza perfetta non si offende se vi dimenticate l'anniversario della data della morte del suo criceto preferito e non è mai gelosa se vi casca l'occhio sul davanzale della sua amica perché sa che voi la amate anche se ogni tanto vi sfugge il controllo di dove guardate. E che male c'è! La ragazza perfetta vi sarà fedele fino alla morte come Argo, il cane di Ulisse. Sarà cieca nei confronti degli altri uomini e completamente sorda e insensibile ad ogni tipo di avance che non provengano esclusivamente da voi. La ragazza perfetta è una porno star all'interno delle mura di casa vostra ma è una santa al di fuori. Un muro impenetrabile agli occhi degli altri maschi quando in giro da solo o con le amiche. Come difendersi da loro? Svegliandovi! Perché ovviamente era tutto un sogno. ragazze del genere non esistono. E anche a me se concesso che esistano con voi non ci verranno mai. Ciao!